Unicredit è salita sul podio nella categoria di certificato a capitale non protetto. È stata una sorpresa o ve l'aspettavate? Io credo che facciamo leva su un'esperienza ormai più di quindicinale sul mercato italiano dei certificati. Abbiamo spesso portato innovazione. Nel corso dei anni siamo stati premiati in varie categorie. Quella di questa sera è sicuramente una delle categorie in cui abbiamo puntato quest'anno insieme a innovazione che speriamo che nel corso degli anni a venire porteranno anche i loro frutti e che porteranno anche soddisfazione a chi utilizza questi strumenti, queste soluzioni di investimenti per il suo proprio portafoglio. Il certificato che è stato premiato è denominato un certificato Sprint. In che senso? Ci può spiegare brevemente le caratteristiche di questo prodotto? In realtà Sprint vuol dire che darà un effetto leva limitato ma comunque un effetto di accelerazione al rialzo senza accelerare le perdite. L'idea è molto semplice, offrire più rendimento in fase di mercato rialzista mentre in caso di ribasso si va a percorrere il mercato. Questo completa la nostra offerta che è anche completato da un insieme di certificati che vanno invece a portare rendimenti. Grazie a tutti.